ciao daniele benvenuto nel nostro salone ciao allora questa è la nostra prima prova tu hai qualche idea di preciso di cosa vorresti no mi affido completamente a te è molto portata la linea classica ti vede un po con una finta riga un po più tirati un effetto più brillantinato una sfumatura molto classica infatti vede poco con una barba più dettagliata poi in base al colore del vestito che quest'anno ha molto il volu ci rendiamo conto di quello che c'è da fare sì no è proprio perfetto questo taglio qui è proprio perfetto come hai scoperto il nostro salone tramite amici è un amico in comune che mi ha mi ha indirizzato verso questo salone tu devi sposare il 29 agosto perché è per certo perché è dovuto rimandare per un problema di cori no abbiamo dovuto rimandare sì perché la prima data del primo maggio da quanto tempo riconosce con la tua futura moglie ci conosciamo da un bel po che già lavoriamo insieme e quindi però diciamo l'amore è nato sono due anni che stiamo insieme da quanto tempo lavori con paolo allora diciamo che con paolo ci sono cresciuto appena 14 anni ne ho 47 quindi ti lascio immaginare la mia esperienza con paola è una vita come è nata la tua passione per i capelli è nata essendo da piccolo un cliente quadra già da paolo mi è venuta questa cosa di iniziare un percorso con lui perché mi affascinava questo mondo e mi affascina cosa significa lavorare con paolo fasulo e questa è una grandissima domanda paolo è una persona che ci tiene è sempre attento alla formazione è un continuo aggiornarsi viaggiamo facciamo tutto quindi stare con lui è un piacere un onore e stare sempre a passo con quello che oggi la moda lui è daniele e si sposerà il prossimo 29 agosto lui è tonino e ho scelto lui per il mio giorno indimenticabile grazie a tutti grazie a tutti